E' uno dei consiglieri stacanovisti della regione Marche, con il 100% delle presenze in aula, ha firmato 277 atti, di cui 60 proposte di legge, 96 mozioni, 74 interrogazioni, 10 ordini del giorno e 37 risoluzioni. Il consigliere uscente Boris Rapa ha presentato ieri la sua candidatura con il PSI alle prossime elezioni regionali, nella lista che mette insieme anche Italia Viva, i civici ed Emos, Democrazia Solidale, a sostegno di Mangialardi. Rapa, che durante la legislatura si è impegnato sul fronte del turismo e forte di una vita professionale nel mondo dell'ospitalità, torna a puntare sullo stesso settore come strumento di crescita economica e di generazione di posti di lavoro dalle coste all'entroterra. Mai tanti soldi sono ricaduti sul turismo come in questa legislatura, ha fatto notare in conferenza. Erano 30 anni che il settore non riceveva finanziamenti a fondo perduto, come i 30 milioni di euro destinati alla riqualificazione delle strutture ricettive. Il turismo, ha proseguito Rapa, rappresenta un volano per il lavoro che comprende l'intera filiera enogastronomica e tutte le maestranze, un tassello fondamentale addetto per l'indotto del territorio. Chiaramente in questi cinque anni ho portato le mie competenze nel settore del turismo, uno dei settori assessorati che hanno oggettivamente avuto le performance migliori. I dati lo dimostrano, siamo stati conosciuti dalla Lonely Planet come seconda destinazione al mondo e questo non è una casualità ma il frutto del lavoro fatto in questi cinque anni. Oggi metto al centro dell'agenda politica regionale il tema del lavoro perché nella fase attuale che stiamo attraversando, nelle difficoltà economiche post-covid, penso che il lavoro debba essere il tema principale per i prossimi cinque anni. Tema del lavoro declinato per il lavoro femminile, per il lavoro giovanile ma anche per quelle fasce più deboli che in questo periodo stanno più soffrendo che sono anche le fasce dei disabili, cioè creare delle misure, delle azioni nuove e precise per cercare di dare un sostegno anche a livello lavorativo per queste persone. Per l'assessore regionale al turismo e alla cultura Moreno Pieroni, Rapa potrebbe essere il candidato ideale per prendere il testimone. Pieroni, che ora punta il ruolo di sindaco a Loreto, ha ricordato gli investimenti fatti in cinque anni per il settore, a partire dalla messa in sicurezza dell'aeroporto marchigiano e gli oltre 13 milioni di euro per una serie di rotte verso le capitali europee che verranno inaugurate nel prossimo inverno. Poi le piste ciclabili per le quali sono stati investiti 47 milioni di euro e la campagna promozionale anche sui media nazionali, ma non solo. Utilizzare i nuovi fondi europei 2021-2027 per un investimento che arrivi almeno a 90 milioni di euro per quello che riguarda la promozione e l'accoglienza. Non ultimo, un altro impegno che ci siamo presi e che vorremmo completare tra il mese di settembre e ottobre è di far uscire il bando utilizzando i fondi per investimenti regionali per la riqualificazione delle strutture balneari che vanno da Gabiccia fino a Porto d'Ascoli. Quindi questo è un messaggio forte che vogliamo dare al sistema della ricettività, è un obiettivo su cui noi tutti dobbiamo lavorare e soprattutto sono certo che questa maggioranza sta uscendo bene per quello che riguarda il comparto del turismo e della cultura. Naturalmente tutto è migliorabile, ma sono convinto che Boris sarà una figura importante in consiglio regionale e credo che abbia maturato le competenze in questi cinque anni per poter essere individuato come assessore al turismo e alla cultura dei prossimi anni. Il sindaco di Fano Massimo Seri ha invece sottolineato la presenza costante e le azioni concrete messe in campo da Rapa. Grazie a lui, ha detto il primo cittadino, sono stati stanziati diversi contributi che hanno permesso agli eventi locali di avere una continuità, iniziative che altrimenti sarebbero state annullate. Anche per un territorio è importante avere punti di riferimenti per affrontare le tante questioni e le sue complessità. Boris Rapa ha dimostrato in questi anni di essere persona seria, competente, responsabile, direi anche umile e onesta. Sono elementi importanti e competenti in modo specifico su settori come quello del turismo. Ovviamente il nostro territorio è molto sensibile a questo comparto e penso che possa continuare a dare un contributo significativo per la nostra città e per il nostro territorio.